Avete mai pensato di abbinare un cavolfiore all'alloro? Si può ottenere un piatto molto saporito. Vi faccio vedere come lo preparo. Prendo il cavolfiore, colgo le foglie vegetative, la parte del gambo, incido con un coltello e tengo solo la parte centrale. Con quella di scarto, chiediamola così, taglio della cipolla, delle patate e la faccio cuocere in acqua bollente per preparare la spuma. Abbiamo ottenuto così questa purée. Vado a chiudere il sifone. Deve riposare circa un'ora in frigorifero per riaddensarsi bene, per diventare bello cremoso. Il cavolfiore cuocio a bassa temperatura con un filo d'olio e sale per circa 15-20 minuti. Perché ho fatto questa cottura? Perché cuocendo sottovuoto la verdura non perde nulla. Tutti i suoi succhi, tutti i suoi profumi rimangono a contatto con la verdura stessa. Non vengono persi durante una cottura tipo bollitura. Aggiungo questa glassa preparata con miele da caccia caramellato e garum di siero di latte. Lo passo al barbecue. Lo cuoccio lentamente per 5-6 minuti finché diventerà ben caramellato. L'alloro lo faccio essiccare un'ora al forno e poi lo frullo, ottenendo questa polvere fantastica che ha un profumo quasi speziato. Vado a impiattare. Andiamo ad appoggiare il nostro cavolfiore al centro del piatto. Polvere di alloro. Andiamo ad aggiungere questa spuma che darà una grande morbidezza al piatto. Spolverata di alloro e qualche goccia di miele caramellato con garum di siero di latte. Ed ora il nostro piatto è pronto per essere assaggiato. Cavolfiore barbecue, garum di siero di latte e polvere di alloro.